Bene ragazzi, di eccomi è orato, sono Frax con un nuovissimo video sul mio canale Oggi, come tutti i giorni, alle ore 19 è uscito il Frax Utime Siamo qui con il Frax Utime Potete andare subito, vi do il permesso di mettere in pausa per fare due cose Lasciare un like, immediatamente dobbiamo arrivare a 10.000 per un altro Frax Utime domani Ve lo dico io quando mettere in pausa, eh E poi dovete andare a vedere e mettere like, se non l'avete ancora fatto Al video che ho fatto insieme a mia sorella su un gioco horror Ci siamo cagati sotto, pesantemente, quindi potete lasciare pausa tipo adesso e andare a mettere like Tipo lasciate pausa adesso Ok, avete lasciato pausa, siamo tornati, salve a tutti quanti con il Frax Utime Ma passiamo subito alle domande, bando alle ciancio, ciancio agli bandi, bandanti La prima ce la fa Stefano Danna Frax, avete mai pensato voi come compagnia melagodiana o te personalmente di essere disponibili a degli eventi scolastici? Esempio autogestione? Assolutamente sì E altri di melagodiano sinceramente non lo so perché non sono mai entrato nel merito di questo discorso con loro Però io l'ho fatto per esempio la settimana scorsa con i ragazzi del Don Milani Che è una scuola vicino Roma Siamo stati lì, che è una scuola media Siamo stati lì, hanno preso un'aula, i professori hanno raggruppato due o tre classi E abbiamo parlato un po' di comunicazioni e quant'altro Ma poi ovviamente siamo sfociati nello sdrogo Abbiamo parlato di tutte cose strane Non avete fatto domande su partnership e cose Quanto uno guadagna Tutte quante queste cose qua A cui ho risposto apertamente a qualsiasi cosa E io veramente mi è piaciuta tantissimo come idea, come cosa E quindi lo farei molto volentieri Molto sinceramente ti dico però autogestione no Perché l'autogestione non ci sanno i professori E quindi non mi va di buttarmi in una scuola Per essere magari assaltato da svariate classi insieme Perché se fatto tutto quanto in ordine Con precisione e quant'altro Si riesce a fare tutto Le foto con tutti E riesco a scambiare due chiacchiere con qualsiasi persona Però se si parla di un'autogestione Dove tutti fanno quello che cazzo gli pare Sinceramente non è che mi faccia impazzire come idea Quindi se i vostri professori sono d'accordo e quant'altro Di qua e di là Potete contattarmi liberamente E io vengo molto volentieri nelle vostre scuole Magari a Roma Perché comunque per spostarmi in altre città Dovrei pagarmi treno, hotel e quant'altro Dato che comunque non mi va neanche di chiedere soldi alle scuole Perché neanche dei treni intendo Perché comunque sappiamo tutti Che non è che ci sia una grandissima ricchezza scolastica Grazie al nostro governo Quindi cioè Modestamente sono l'ultimo Che deve chiedere pure 100 euro per un treno a una scuola Nella mia opinione Insomma nel mio ragionamento Seconda domanda Ivan Cremonesi Frax, l'Itatube è un evento come gli altri Games Week eccetera O è qualcosa di particolare? No, non è assolutamente un evento come gli altri È qualcosa di molto particolare Perché magari ieri Il video di ieri non l'ho spiegato bene Tanto ricordo a tutti quanti che Io e tutti quanti quelli di Milagodo Tutti quanti quelli di Milagodo Saremo presenti all'Itatube Il 9 e il 10 maggio A Milano Cos'è l'Itatube? Praticamente hanno affittato un locale Che è l'Alcatraz di Milano Noi staremo lì E ci saranno Ci sarà sostanzialmente il nostro stand Dove venderemo tipo le magliette Eccetera eccetera Poi ci sarà sopra il palco Un'area meet and greet Dove ci face... Cioè voi tipo mettete a fare la fila E in modo molto ordinato Venite tipo un po' alla volta Per incontrarci Per salutarci e quant'altro Poi ci saranno dei momenti di palco In cui noi sul palco Cazzeggeremo Insomma faremo urlare Cose del genere Quindi sarà veramente Un evento molto figo Anche perché ci saranno presenti In questo evento Molti youtuber Anche stranieri Inglesi Americani E quant'altro Anche con svariate milioni di iscritti Quindi se volete venire Venite Vi lascio magari ancora Il link qui sotto Nei commenti E bla Planet Gameplay Frax Oltre all'Itatube Come abbiamo detto adesso Organizzerete anche un raduno a Napoli Ti paghiamo la pizza Giuro Allora se mi pagate la pizza Vengo domani Correndo così Sulla seta a rotelle Sua Roma Napoli Mi trovate così E no vabbè A parte questo Sì Organizzeremo sicuramente Un evento a Napoli Per tutti quanti i napoletani Che mi seguono Potete stare tranquilli Perché Ghost Frax Anzi no senza Ghost Frax Solo Frax Verrà a Napoli Prima o poi Molto più prima Che poi Ve lo posso assicurare Il tempo che riesco a stare in piedi O anche a camminare Solo con le stampelle Vi giuro che vengo Anche perché al Comic Con Non ci saremo Tutti quanti noi di Merakoto Non ci saremo Però Probabilmente in quegli stessi giorni Organizzeremo un evento Fuori dal Comic Con Gratuito Dove potete venire Gratuitamente Senza pagare neanche Il biglietto del Comic Con Quindi Organizzeremo sicuramente Qualcosa del genere E quindi sicuramente A Napoli Ci verremo State tranquilli A Napoli A Napoli Venimo Naked Gamer82 Ancora impennata Incredibile Frax Domanda un po' strana Se dovessi rimorchiare Te stesso In che modo Lo faresti È una domanda Ah Mi sono rotto Che dolore Mi sono piegato il piede Stavo dicendo È una domanda un po' strana Come anche lo dici tu Però è molto figa Se dovessi rimorchiare Te stesso In che modo Lo faresti Quindi ovviamente Io sono una donna E davanti a me Ho Frax Ho io davanti a me E sono una donna Mi devo ricordare Che sono una donna Come mi rimorchierei Sostanzialmente Andrei là e gli farei Ciao Frax Vogliamo trombare No No Come lo rimorchierei Non lo so Forse farei un po' Di gioco di sguardi Insomma Mi provocherei Un pochettino Una roba del genere Credo Non ci vuole molto Per rimorchiarmi Devo essere sincero Ovviamente se siete Delle ragazze Perché mi dispiace Per tutti gli omosessuali Che mi guardano Ma io sono etero Mi dispiace per voi Non avrete mai Questa possibilità Però Per le ragazze Sinceramente Non è molto difficile Rimorchiarmi Ecco In genere Vabbè Comunque si è facile Rimorchiarmi Proprio GG Easy WP Vabbè dai Da GhostFrax È tutto Sempre Datemi sto cazzo De 5 Lo voglio che cliccate Sui vostri schermi Che prendete a destri Così lo schermo I vostri smartphone Cliccando con il dito Datemi il 5 Qui E Ve l'ho spostato Pezzi di merda Vabbè Datemi il 5 Da GhostFrax È tutto Il Frax2Time È finito Ci vediamo domani Con altri due video Forse O comunque Con il Frax2Time Alle 19 Mi raccomando 10.000 like Se lo volete Ancora domani Alle ore 19 Da Frax è tutto Bella